L'attività di indagine che è durata un mese, intensa, complessa, sicuramente non semplice, ha consentito di raccogliere tutta una serie di elementi investigativi che incrociate e messi insieme si sono tradotti sostanzialmente in gravi indizi di colpevolezza. Giovedì pomeriggio verranno tutti interrogati nuovamente. Freddy Sorgato, la sorella Deborah, la tabaccaia Manuela Cacco hanno nascosto fino ad ora tutto tra di loro a tradirli solo una frase intercettata dagli investigatori, l'abbiamo fatta grossa, e poi quel video in cui si riconosceva una donna che non era Isabella. Dovranno chiarire molte cose dall'inizio di quella tragica serata in cui Isabella è scomparsa, come l'hanno uccisa, dove hanno gettato il corpo e che legame c'è tra di loro, tanto da indurre Deborah Sorgato non solo a coprire il fratello ma anche a convincere l'amica Manuela Cacco a travestirsi con il giubbotto di Isabella e farsi riprendere dalle telecamere del centro città. Qualcosa di più della semplice gelosia, ma gli investigatori al momento sono di poche parole. Non sappiamo ancora dov'è Isabella? No, siamo ovviamente alla ricerca di un corpo. Stiamo facendo un focus di approfondimento, valutando tutti gli elementi informativi che abbiamo a disposizione proprio per stabilire in che direzione andare. Avete soltanto qualche ammissione o su cosa si sta lavorando? Non abbiamo nessuna ammissione, sul punto non posso rispondere. Quello che è importante, visto che parliamo di fermo, di indiziato di diritto emesso dal Procuratore della Repubblica è che sono stati raccolti una serie di indizi grazie all'analisi delle telecamere, per esempio, dei contatti telefonici, delle dichiarazioni incrociate, tali per cui emergono indizi di responsabilità penale nei confronti dei soggetti fermati. La notizia su cui state lavorando è che comunque Isabella è morta. Su questo ci sono delle certezze. Su cosa si basa? Si basa su gravi indizi di colpevolezza, l'ipotesi di accusa e di omicidio premeditato, per cui la risposta è conseguente. Ha aiutato la divulgazione del filmato con quel giubbotto bianco? Direi assolutamente sì. È stato un discorso importante come metodologia investigativa perché siamo arrivati al punto, nella fase delle indagini, nel quale era assolutamente importante cercare di capire chi fosse quella donna. Lo strumento della divulgazione, dell'appello fatto attraverso i mezzi di comunicazione riteniamo sia stato assolutamente importante. Nel passato di Manuela Cacco, un legame con la malla del Brent, era sposata con Smeraldo Marigo, uno degli uomini collegati alle rapine della malla e lei stessa era stata processata per gli assalti di quegli anni. Avrebbe avuto una relazione con Freddy Sorgato, di cui era gelosissima. Deborah invece pare non sopportasse Isabella, che considerava pare una approfittatrice. Una vicenda oscura che potrebbe riservare altri colpi di scena. Freddy Sorgato è stato portato nel carcere di Padova, le due donne, Deborah Sorgato e l'amica Anuela Cacco, in quello di Verona. Paolo Noventa, il fratello di Isabella, ora invece chiede semplicemente la verità. Vuole sapere dov'è il corpo di Isabella. Se fosse successo, se questa fosse la verità, io credo che anche le famiglie di Freddy e della sorella e della Cacco stiano soffrendo di questa situazione come la stiamo soffrendo noi. Non è ancora la fine, non ho ancora mia sorella, non ho ancora la verità su mia sorella.